Vieni, mandatemi un gelato. Glorie a Gesù Cristo. Allora, domenica pomeriggio, dopo che abbiamo pranzato, ho lavato i piatti. Praticamente afferro con le mani il contenitore del detersivo liquido per i piatti e praticamente mi salta dentro l'occhio una goccia abbondante di detersivo per i piatti. Tra l'altro nell'occhio dove ho avuto una emorragia al vitreo, quindi già un occhio danneggiato. Ho avuto, diciamo, subito mi sono spaventata perché ho detto che qua lo perdo l'occhio. Praticamente era diventato un bordo di colore e mi sentivo pure del tipo delle pietroline nell'occhio. E l'ho detto a Pasquale. Pasquale ha detto preghiamo, preghiamo. Proprio ha messo la mano nell'occhio e abbiamo pregato. Grazie a Dio, poi ho chiuso gli occhi un pochettino, grazie a Dio, già aprendoli, il fastidio era andato via e il brugiore, non il brugiore, proprio il rossore all'occhio è svanito quasi completamente. Io ce l'ho sempre un po' rossati, però quel rossato, diciamo, non c'era appena proprio di questo colore. e ringrazio il Signore perché veramente ci guarda e ci protegge anche ogni giorno, ecco, in qualsiasi cosa facciamo. Lo ringrazio. Gloria a Gesù Cristo. Applauso a Gesù Cristo.